L'impegno di Michelin per una mobilità sostenibile supporta il cambiamento in atto che consente alle persone di muoversi, incontrarsi, trascorrere il tempo libero, ma anche di lavorare, viaggiare, trasportare merci, riducendo le emissioni di CO2 e preservando le risorse ambientali nel massimo rispetto del nostro pianeta. Ma la sostenibilità non è solo ambientale, è anche economica, perché l'attenta gestione dei pneumatici consente un vantaggio sia per quanto riguarda il costo chilometrico, sia parlando di consumo carburante. Il pneumatico autocarro Michelin, grazie alle tecnologie di riscolpiture e ricostruzione, contribuisce a migliorare l'impatto ambientale riducendo le emissioni di CO2. Ogni pneumatico ricostruito comporta un risparmio di 60 kg di anidride carbonica che non vengono immessi nell'atmosfera, preservando una quantità maggiore di risorse naturali. Inoltre, riutilizzare più volte la stessa carcassa, che rappresenta il 70% della massa del pneumatico, consente di moltiplicare il chilometraggio con un risparmio di 45 kg di materie prime a pneumatico. Anche la riscolpitura permette di ottenere diversi benefici, a partire dalla durata chilometrica, fino al 25% in più per ogni riscolpitura. Inoltre, vi è un duplice vantaggio in termini di sostenibilità, un risparmio di materie prime a parità di distanza percorsa e un alleggerimento del peso battistrada che riduce l'inerzia a rotolamento, consentendo un risparmio fino a 2 litri di carburante ogni 100 km percorsi. Ecco perché parliamo di sostenibilità ambientale ed economica.